Questi sono i funghi che ha trovato Bruna, è entrata nel bosco alle 11 e mezza dopo che è tornata insieme alla Rossella da Pericure a San Marcello Pistoiese, è entrata alle 11 e mezza nel bosco e guardate che funghetta ha fatto. Tieni, guarda per lì, fra tutti saranno circa 8-9 etti, così a occhio, ma vedrai, ma vedrai, ma vedrai, ma vedrai, ma guarda non li fa cascare, tieni, taglia per lì, se non sono, questi sono già 590 grammi, leva un po' Bruna, già che ci siamo, Guardate bellezza, tutti i fratelli sono 590 grammi Più un ette 10, sono 590, 6, 7 ette 590 grammi 690 grammi